Sì, prepariamo a sì? Sì, prepariamo un messaggio. Bismillah arrohman arrohim Alhamdulillahi rabbil alameen Assalatu wassalamu ala muhammad al-nabiy al-ummi wa ala li wasabi wa salama ma ba'du wa tukufu Quazi wanzanowatu wa tukufu Salam wana Najat Hassan Kamal Sayyid Salam Ruhoy hangu wa abdul majid Zasalamuna zimadi liyeni wa tukufu wa tukufu Khairina barakana amani Wa tukufu wa hanu insha'Allahu ta'ala bi'idhnillah al-karim Unzanowatu wa tukufu Barakana amani Insha'Allahu Kwezi wanzanowatu wa tukufu Badara mreani ze salamu ahma jamba Salamu nga mwono ze salamu na zimrajaini Nga zirirajaini Insha'Allahu Na unukaritina jotoha kuyu Ununga sina mnafre Ya wangi wanjema hun Nga sina mnafre Kwezi kati roha mandavon rejei yo Mgono helin liyo Salim Magana Salam Herna Barakana zimadi liyeni Msaidi Msaidi Yeruzuna Salam Gamono ze salamu zaha nyonyonti pia Suali Suali Ahmed Mtukuf Khairina Barakana amani Saif Mbaya wa manaha ngu Mtukuf Mbaya wa karitu juuwa yika Ngari jowu Ushindari zuwe mbavi Wamara Hasani Kututaha salamu sha mitirize salamu Wamara Hasani Mitirize salamu Mkakutuitaha ya buku jajo wuj Mitirize salamu Ngekawe kututaha salamu Paramye zimgu umambiye Ukaya kejala thimubehe salamu Lunia nivanu Yoranzingu anza ukefi raauna Urenge ye dunia Msaidi Yeruzuna salamu Urenge ye dunia ngeya bo Paramye zimgu umambiye Ukawende mnye zimgu wa hea arudhinu Bamimi ya mnye zimgu waha ngunde ya mba ye dunia Yare reya mtume Ya mtume waha mba uka Lesukala lahandani Ya lamba Ya mba ukaya ya mwanada mujonji ya mbevoni Haruma ya mbevo ya mnyezi mungu Ekae silamu ngusuali ngufungotumu Ngufanyo ze mngoyo ze mgu zontanu Zaho silamu Bahii lesu alalamu mtume ya lamba la huwa Nguwajum jambe wanipatina mahkama De mdure uro salamu Hamba afshu salamu Na mdure ya na salamu Abo ngeminga mdungu wa izoe mtume waya hamba Abo ngeminga mdungu wa izoe mtume waya hamba Abo ngeminga mdungu wa izoe mtume waya hamba Nizoe ya fanya Arambe rifanya Ngeka kututahanu salamu Yepara mnyezi mguwambe wende firawuna wa he dunia Keja la di mujena salamu haruma ya arudhinu Bami tirie salamu Naminga mdungu wa izoe mtume waya hamba Nge ngojo jiju samo Abo uji uwe Abo apanga bujahali mjemni uwe Shami la di meni sanjo unji haruma telefona Hanga njora salamu Eni mdulo bana njomra salamu Ngeka kutsu yanza Hatawe wa mjora salamu ukeku woshe ya Le dambila haho shatila hangu Donkwe eka ujihansu kawe abu jahali Na firawuna na hamana Tampi purtuwasha mjoreye salamu A force Donkwe si swango jorulu kekudo ni dunga Amaniaha Ou si swango jorulu tabi hayo roho shanjore ya salamu Haruma ya telefona hangu Jwe feske jwe feske Se mwa ki komanda Se pa za toa ki komanda da mon telefon Da ma live Da mon live Se ne pa za toa ki desidi Se mwa ki desidi Hala feka wkautsahanu vumbu wembabi Yabotu vumbu wa he heli utamani ukae Wanzo uke firawuna na hamana Nakaruna ya wotisati huambia Awungia rubaki uke firawuna Watukufu Nga mwishia watangarizilo Auritireze salamu Lelunga sinasujambili O halawa Nimze wahatu notabla wahatu Bienvenu Ukaya zi wano Mwananyasi notabla wahatu Bienvenu Ha nzihaya buhafishe Ukaya hasaha laba Ebala ne lo Mari Arimbundo Mariamma Idris Halabane mwana mshia Kazawola le Mariamma Danko Si ono mze wahatu Notablo wahatu Habe hai malavoyayo Si wahenjumea Basta ngarijodo kaha ujua Wakanja kaudo kaya bala Mze wahatu Notablo wahe mgofanyon Tartibu hatava Sahu isawure nge mvuhu Sofi Habe hamala bojana Habe Lathima baturike haujua Sha nake radhimze Wuhatu notablo wahatu kwezi Ni mwanzao Bienvenue Barijotan sa wababilesu Ala ilu Katimono wangu watu ya message ya bolelu Wamba wune mporto kwa Ala funga mjowajibu Mbabi Ndongoza Idris Ndongoza Idrisi Messaj Spesialida Shaka blar hane janbe Shai message Messaj Amjogo Rongoza Rongoza Mwanda Zene mporto kwa Nirongozem Enotablo wahatu Yare tirembabie Malabo Ili rimezire Zerezo Uwanwanu Wadojua Siasa Shino Hinrini Wadojua Mnusutene Siasa Mnusutene Hinrini Wajwe Mfahida Ya Siasa Alafu Amjorongoza Idrisi Nimambi Yewkana Ndongoza Idrisi Atasio Idrisi Pasko Idrisi Ufany Hajanono Loti Soalala Lelo Uwedrisi Shau Rendi Hajanono Mwambo Nimporto kwa Wabonono Rijokano Ilambe Yahimaya Yani Mwuzi Amj Yanzomba Yimru Yile Yejom Paraham Nikasa Ero Hamabiyo Kenda Wade Mnji Flani Awude Mnru Flani Gujom De Anifan Do Wanojua Hanyo Bwydrisi Haw Nji Haw Kayo Dezi Hanyo Bwydrisi Dezi Amtu Jiyom Yani Liyaw Yiyo Yejopara Nono Hamamba Ukasiha Mwepara Nono Mwambiya Ukasiha Veno Tazi Nu Shaw Wenda Wade Mjiflani Gujodea Shiza Hanyo Bwydrisi Vremazi Tumbumpa Kazishia Wiza Weyaka Wem Wambangosu Tene Rejimu Yezi Ya Hako Yazulo Niyo Bwydrisi Ngotonja Haruma Miji Weisankada Na Madina Yamiji Wamba Yizo Wanzao Boydris Esafi Hata Sinyo Boydris Pas Kwe Mwendo Hule Hata Mijika O Mwamnika Onisutia Mwamba Onra Buhasiba Bundany Boydris Ngo 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 Iwari Wamba Izo Wanzao Nabanu Kainaw Kiri Bwydris Kho Mtsuje Purulestanga Muparoni Hwambie Boydris Kakainaw Kiri Yensi Yakomo Hoji Mlifu Haswane Shes Washangazija Sonti Pia Ritu Amba Uyasuma Nazalino Bwydri Ngo Jadayo Hala Fia Vosiseni Mwambati Jaw A Wambak Kato Wanzaf Mani Idris Ngo Tengo Zingara Mj Wambak Izo Wanzao Bwydri Rantse Mnaboti Waw Bkazi Wasuli A Bwydris Gam Wambiyo Kler Kou Zifany Nkadom Bili Mbeni Ti Wupase Mesaj Shab Wrenda Bwydris La O Uza O Lime Wako Vum Bwede Le Dina Lako Mnji Wambeni Wulaho Kazamari Yama Minja Kazamari Yama Bwydris Kajimba Yosalihamba Hurantse Mnrum Shau Kutsula Lanem Rumshe Zon Tanz Jue Shai Zona Johambia Bwydris Ndezekat Verite Bwydris Na Hujofari Hukau Jola Wadamu Matson Bwydris Alor Esaye Bwydris Unjie Mnjambeni Uvenu Sensor Mtidopu Wawano Wetow Wawano Bwydris Hawkaya Yon Dekomba Yahanyu Bwydris Yon De Suti Nya He Rejimu Yahanyu Yafors Zidwa Na Uprepare Wambu Wela Piza Wambu Ili Wandu Wajibu Njie Mabewa Mungu Wade Bwydri Karati Mru Hamada We Ala Fue Zilo Onte Oson Manyu Sike Bwydri Nyi Demta Ha Omba Kina Yezi Yishili Yandro Yma Kalimani Wambia Wawa Paske Kanga Lelonga Mufasiri Yopolitik Changa Wujuroun So Jou Fasiri Yopolitik Na Zere Pense Zhatu Kazina Wanda Mungu Hayamba Bibi Bon Je Nyi 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 Il ca terrò che se si utillasse соответzionata. Il il несколько ed盧 sprawoso. Il questo regimio si modelling así, o il recimo mi ha effettato una rifanno. Oggi mi pensava di fare. Che abbiamo l'armoda nel Jackie. Il Конie di me aveva fatto che si stavciano. L'armo pensava che mi avessero avere More Animals oesse a obtenesse... Ora io per te chiamerai o medio di partenze. Yapetto i tu pensi, che ci sono stati Non c'est pas comme ça Non Non. Alla fuia si... L'inzawonda voy a kayawewe boitris. Kwa mbawe conseiller présidentiel. Setti donc le travail d'un conseiller présidentiel, son rôle c'est kwa boitris? Ce n'est pas d'insulter le peuple. Non. Règle numéro 1. Ce n'est pas d'insulter ceux qui sont contre de votre régime Idriss. Non. C'est de faire en sorte écoute-moi Idriss c'est de faire en sorte que ceux qui sont contre le régime ils viendront. Pourquoi ils vont venir? Les actes. C'est les actes. Mais ce n'est pas le blabla Idriss. Alors, le régime y'a hanyo y'a mtujayi y'o. Le régime y'a bad time. Le régime y'a mafiti y'a nrabo. Le régime y'a mtina azathuma ni wakati na rongo y'o. 4-7-20 rongo l'unia y'a n'y'o en bwitris. Si je te vu y'a mtina y'a mtina y'a mtina y'a mtina yangu. Si joja mpazone. Wallah ele zina le mgu ti joja mpazone. Ahu ni uombe mnyezi mguya nrenge roho Nitawe Yezia Firawna Buo Idris Uka onde Yezia Firawna Ui 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 buo Idris Yezi kawani wakati Mtsuje mloho mnguverne wo Ya anathuma nazali Iho mtsuje ninde mnguverne wo Buo Idris Ecoute mwa trebyan Etreza attentiveman Ujua uka yazali wonga nimijuwo Uka azala usiku dima dai napuhu Napuhu Usiku ya kawumba duniani Wende mwena nshe wa shaitoani Hawumba usiku ya hejahaz Yanu Ili yaza mise hejahaz Awatuma nina Napuhu wa wawumba usiku dima Azali waka wumba duniani Ye misunye hae ya jaza mise komorbo Idris Ha shanja yedini Ni wakati ya loko O haruma yensi Ya gouverne wo yensi Buo Idris Ye komori yotso ro Ha haruma yedini Ye wu halalisha Izo mniezi mngu ya haramisha Ha haramisha Izo mngu ya halalisha Buo Idris Donko si jwete vo Ani Uti paro imajine Uka bo kaza wo Usobo pandojou Wesingiya Wa he ya lepanda Ilo yosijida Ya uhalalifu Yotisikida uhalalifu Hukangu uhalalishu Za uharamu Buo Idris Mana thumani Uhalalishu Iza haramishi Wani mniezi Mguspana Hwa taala Hamanipile Wana zioni Hawa nikaze Nrabungwa wamba Buo Idris Hamanipile Ye nini Ha ito Buo Idris Kujaparishia Imamu Mwanamushi Dunyani Ye nini Ya siha kamili Kujaparishia Imamu Mwanamushi Wakati ya Mtume Salallahu Alayhi Wasalam Anema Sohaba Kujaparot Tendeza Amiri Mwanamushi Mwawono Yizo azali Yafanya Atule Juru Harume Maulida Suifatu Nabi Kujaparishia Imamu Mwanamushi Misaru Matengue La Miliyari La Wanadam Wanaume Lilona Wana Ziyoni Watimizimi Yongo Haringe Mwana Msham Tendeza Soma Korani SFU Ska Zirendo Lo Tengue La Dini Hukaranzing Aranzone Ndi Harumansi Yakiz Ngu Nge Bani Yamba Huparloma Haringe President Wala Asamble Mwana Mwana Mshe Sasa Pejia Pasu Hapangarendo Harumainu Shamba O Development Nouvelle Development Shaha Haruma Tengue La Yarenge Mwana Zade Yame Tendeze Asome Korani Yame Tendeze Yarenge Yafany Kal Ye Yewanve Alakuli Hali Bo Bo Idris Si Jete Vouti Jodjam Po Zona On Be Mnie Zingue Yandang Rok Monsi Bili Bo Idris Vreman Yika Mono Hany Yany On Rwam Tzouje Surtu Ndaw Bo Idris Si Jete Vout Jou Rédu Met Womu Hawo Botula Wafilm Ya Porno Hawkayu Halalisha Mana Harengo Wana Ziu Esirkalia Hathmana Zali Ekutu Mwatre Bience Esirkalia Yanyu Yowam Tzouje Enimru Hanzo Yawulu Aya Bo Idris Hawyatilu Apirizo Yabare Wayatijorongo Wekangu Ambo Yikweli Nyuhum Itaharuma Sistemu Ya Mrum Zade Hawka Mjom Ukaya Mkomor Mbili Imapesa Na Mlom Zade Njoka Mkomor Reka Resist Na Mlom Zade Izo Hathuma Izo Hathuma Hathualia Nayonde Politiki Yakin Asora Hala Fumja Mdrengo Wana Watiti Nide Mwaka Wkhala Lisha Mtsongezo Wana Wana Hathu Warendehema Pud Wana Wana Ziponja Wadot Wazengu Wawenda Wazi Ekuto Mwaboidris Ashka 34 Eza Honda Waze Wana Wawenda 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 Yon de sistemi ya fuma nazali E sa Bo Idris On kone le sistemi Du rejim De mitsuje Alor ninde matia wa ususulo komori Salam Nabila mzima jakume Mitsuje Yerejimu ya mitsuje ninde matia wa ususulo komori Ne ze violi za hoa naziwa na watiti Hauka ninde mtende omwefanya ze violi Ndanywa mitsuje Hauke rejimu ya mitsuje De yifanya wa ze violi komori Abo kamna wdo fanya jujouma Yam mruya viole Mna mwa nam titi Hauka wala ninde mwa wa viole Pia De rejimu ya hanyu Nga mdrengu wana wa douzan Trezak a katorzan Mwe wani kazemisyon We njiya Salam wela dinadou We njiya We fanya ze nipporte kwa Boedris Alors si j'étais vous J'aurais du metter Boedris Parce que tu ne sais pas ce que tu dis Est-ce que tu parles Koutou djwaye la honte Ye komori Ndo ya zome Ye roli ya ye komori Ndomji wa mtuje kamil Ndomji wa mtuje kamil Ukathu manazali Wakati anji Wakati anji Wakati anji Haringo wana wamtuje Pia hawa towa Wende wa somo Ndraabu Haji hawarenge Wakati anji Wakati anji Militaire Wanda wa jereo Alors tu penses Koutou djwaye la honte Koutou djwaye la honte Koutou djwaye la honte Non Il nous résistance Boedris Alors Tu ne sais même pas Un système de gouverner un état C'est quoi Boedris Tu ne sais même pas Comment on gouverne un état Mais ton rôle de conseil présidentiel C'est de saccager A toutes les villes Quand tu veux Quand tu auras besoin Tu vas faire ce que tu veux Tu vas dire ce que tu veux Alors aujourd'hui On va vous dire Les quatre vérités Wakati anji 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 Namnivez segonje Ni bloke Da betsalino Boedris Béti salama Wakati manya Wulia mtuje Yopatri mwan Deta komori Yopatri mwan E peuple Yopatri mwan Yopatri mwan Yopatri mwan E kangawo mnji Watuenda hinyen Wamba thumani Boedris Soji deside Bahabari Jwende jwuka Wambé manyak Wule Wambé n'importe Kwa urengo mnji Ou sankane Boedris Nostof Kakouti nazoukhan Boedris Tu pe te taire Boedris Si t'as rien à dire Au peuple Komori Tu pe te taire Boedris 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 Grazie a tutti. 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 , , , , , , no no inowa ma ha come non mi ha ha manifesto un rume a manifesto un rumeo a wonna renti il djada parce que on è tutti de viola on è tutti di pedofili no somtu tutti di pedofili wallo hake kifo wallo asoli a wanno i l'eo che ti provano se pratica se pratica perché la fiducia è un'imbrato non si può essere un'imbrato nel vino e un' biasesa del dominio il discurgo e un'imbrato si deve essere un'imbrato ma non si può essere un'imbrato se non si può essere un'imbrato questo non si può essere un'imbrato ma molto amichie ma non ha pensato scegliato il terratore l'imbrato ma non ha una cosa La mia moglie, come wezze, come stai insieme, come in questo modo Come andiamo all'imbiare la verità Dopo che è visto anche in questo modo, come si vestibili la Repubblica, che si vestibili la stampa Come stavolise la verità della generazione Ma questo è quello che vi dice, è che quella di noi La cosa che sta sottolineando è stagione, è un po' di differenza signore ma che non dei dei tutti i dei 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 la condizione della Heide di ne hadu. Quindi non è il mio nome, è un mio nome che si è riluare e non è quello che si riluare, è il mio nome che mi sono andato di un nome della società, è un nome di ne hadu, e l'ho fatto che l'ho fatto che è un nome di di Arafa, si non è il nome di Arafa, di Pagano, di Pagano, di Pagano, di Pagano, di Pagano, di Pagano, perché è un nome che si è un nome, no, non è possibile la ragione di noi sono messi perché è stato messi l'Europa e l'America con la egalità della fama perché noi non ci sono apprezi ma non ci sono apprezi non ci sono apprezi non ci sono apprezi ma non ci sono apprezi 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 ma non ci sono apprezi non ci sono apprezi ma non ci sono apprezi e non ci sono apprezi si è apprezi sono apprezi di direzione non ci sono apprezi le parole di direzione adesso abbiamo fatto il video si è stato apprezi hawa kawa jawa waka hambibisambala ya hawo hamawa nguwa loma wakamana wakauta, waloma watungaza jiru hamawa nguwa hamawa uberashidi hajwani hakama makarima maajiro maajiro no miazi mkua nike subira ya hawa humbalia hata waha nikau mkua kongone nesa wakigifu haja indi hali anadimuri jaha wakanga rjoka wakanga rongozo wakanga 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 islamu apungeheni wakati bada kasima baniani gachukotu kana pratiki zobania Noi che tutti hanno fatto pratica Non è vero il fatto che il ruotamento Non è vero, non è vero Non è vero Il problema è vero Tessere un po' non è vero Viene del terzo Il problema è che non ci sono si sape la sicurite si sape la sicurezza paura il bisogno di dove il bisogno. si sape la sicurezza si sape la società, si sape la società si sape la lucra se si sape la mia vita ma di più néglia si sape l'abibigio, si sape l'abibigio 7. 9. 9. 17. 19. Cazzo Unirio S Дi Enrico Enrico ỏi Cazzo Cazzo Non è vero Grazie a tutti. 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 e tutti. Grazie a tutti. , e tutti. , 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 ,, , , , , , , ,,, , , ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, , , ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,. , , Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.